Dopo il rifiuto di Malta, sbaccano a Pozzallo i 414 migranti raccolti in acqua internazionali dalla nave CIA-Eye. Identificati e tapponati saliranno sulla nave quarantena Aurelia. I 150 minori non accompagnati saranno indirizzati in un vicino centro. A Tunisi, il ministro interno Lamorgese e il commissario dell'Unione Europea, Johansson, hanno rilanciato l'accordo di partenariato tra Unione Europea e Tunisia per il controllo dei flussi migratori irregolari e aiuti per il rilancio economico del paese africano. In Italia si entra attraverso le vie legali e come un interesse sia dell'Italia che della Tunisia smantellare il business criminale dei trafficanti e dei migranti. Le autorità tunisine hanno confermato l'attivazione di una linea diretta dedicata per lo scambio di informazioni sui natanti partiti dalla Tunisia e l'aumento dei voli di rimpatrio dall'Italia.